con spazio da tre ci vuole provare e sbaglia poi Rocchi, bravo ancora più bravo Fanti è un tocco per Martino che arrestissimo di Andrea Martino e il fallo di Casale giudicato antisportivo in discesa adesso per la Supernova per cui un tiro è rimessa per Fiumicino per cui c'è fallo è già bonus